Sarà Massimo Seminara il portabandiera della categoria dei calzolai, pellettieri e tappezzieri per il 2023, questo quanto decretato dopo la seduta del 13 febbraio dell'Assemblea della Categoria svoltasi nei locali della Chiesa San Paolo. In presenza dell'assistente spirituale della categoria Padre Leandro Giugno, è preseduta dal presidente Filippo Aleo che nel 2018 ha ricoperto la carica di capitano dell'area maestranza. Il quarantenne Seminara prende parte alle processioni della Settimana Santa da ben 20 anni. Oltre a lui, durante la seduta sono state anche assegnate le cariche di alabardiera al 29enne Vincenzo Di Forti, entrato nella categoria nel 2018, e di portabaldacchino a colui che ha rivestito il ruolo di portabandiera l'anno scorso, e cioè il 62enne Calogero Laverde.